Grazie. Grazie a tutti. Giurano come sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alberto Barachini, Alessio Butti, Giuseppina Castiello, Giovan Battista Fazzolari, Alessandro Morelli, Matilde Siracusano. Giurano come sottosegretari di Stato agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, Giorgio Silli, Maria Tripodi. Per l'interno, Vanda Ferro, Nicola Molteni, Emanuele Prisco. Per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, Andrea del Mastro delle Vedove, Andrea Ostellari. Per la difesa, Matteo Perego di Cremnago, Isabella Rauti. Per l'economia e le finanze, Maurizio Leo, Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino. Per le imprese, El Made in Italy, Valentino Valentini, Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci. Per l'agricoltura e la sovranità alimentare, Luigi Deramo, Patrizio Giacomo Lapietra. Per l'ambiente e la sicurezza energetica, Vagna Gava, Claudio Barbaro. Per le infrastrutture e le mobilità sostenibili, Galeazzo Bignani, Edoardo Rixi, Tullio Ferrante. Per il lavoro e le politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, Claudio Durigon. Per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti. Per l'università e la ricerca, Augusta Montaruli. Per la cultura, Lucia Borgonzoni, Gianmarco Mazzi, Vittorio Sgarbi. Per la salute, Marcello Gemmato. Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, pronuncerà ora la formula di giuramento alla quale tutti i sottosegretari risponderanno giuro. Inutile sottolineare, la formula di giuramento vale per tutti, ma l'assunzione di responsabilità è personale. giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. I sottosegretari di Stato verranno ora chiamati ad uno ad uno per la sottoscrizione del verbale di giuramento. Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Barachini. Grazie. 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 Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessio Butti. Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppina Castiello. Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovanni Battista Fazzolari. Grazie. Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli. Grazie. 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 Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli. Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi. Grazie. Sottosegretario di Stato per l'interno Vandaferro. Grazie. 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 Sottosegretario di Stato per l'Interno Nicola Molteni Sottosegretario di Stato per l'Interno Emanuele Prisco Sottosegretario di Stato per la Giustizia Francesco Paolo Sisto Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove Sottosegretario di Stato per l'Interno Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari Grazie Sottosegretario di Stato per la Difesa Matteo Perego di Cremnago Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove Isabella Rauti Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Maurizio Leo Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Lucia Albano Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Federico Freni Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Sandra Savino Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove Sottosegretario di Stato per le Imprese e il Made in Italy Valentino Valentini Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Sottosegretario di Stato per le Imprese e il Made in Italy Fausta Bergamotto Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e la Sovranità Alimentare Luigi Deramo Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e la Sovranità Alimentare Patrizio Giacomo Lapietra Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Vanni Agava Sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Claudio Barbaro Sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la Sicurretario di Stato per l'Ambiente e la Sicurezza Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e le mobilità sostenibili Galeazzo Bignami. Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e le mobilità sostenibili Edoardo Rixi. Grazie. Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e le mobilità sostenibili Tullio Ferrante. Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci. Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon. Sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti. Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e le mobilità sostenibili Edoardo Rixi. Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Augusta Montaruli. Sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni. Sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni. Sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi. Sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni. Sottosegretario di Stato per la cultura Vittorio Sgarbi. Sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni. Sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni. Sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato. Sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni. 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 difficile, lunga speriamo difficile, sicuro speriamo anche entusiasmante, lo può essere e lo sarà quando riusciremo a dare risposte ai problemi che i cittadini si aspettano da noi a essere fedeli al compito che ci è stato affidato a essere esattamente quello che abbiamo raccontato che saremmo stati e la ragione per la quale oggi siamo qui per cui grazie per il lavoro che farete grazie per come riuscirete a farlo considerandovi sempre una squadra come stiamo facendo già a livello di consiglio di ministri e ringrazio anche Matteo e Antonio che hanno voluto essere qui stamattina i nostri due vice premier però ricordate che ci sono milioni decine di milioni di persone la cui vita, il cui futuro il cui benessere, la cui serenità dipendono quasi esclusivamente o per buona parte da quello che riusciamo a fare noi in bocca al lupo a tutti e buon lavoro grazie a tutti 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 grazie a tutti